Oggi vi raccontiamo una bella novità per la nostra città. Come sapete nei giorni del primo lockdown a marzo dell'anno scorso l'autorità portuale e il comune di Taranto assieme hanno presentato una candidatura per un ambizioso progetto di riqualificazione del waterfront Mar Grande, quindi per una creazione di una passeggiata sul mare al piede delle Mura Ragonesi, su Porta Napoli e nel Borgo. Questo progetto da 32 milioni di euro è stato tra i primi progetti ad essere approvato e quindi ad avere il finanziamento del MIT per la sua realizzazione. Quindi questa è una ottima notizia per l'amministrazione Melucci e un altro successo della pianificazione che stiamo portando avanti per la nostra città.